Quinta edizione del Memorial Tutti Insieme per Clorinda, dedicata al ricordo della giovanissima Clorinda Guerritore, prematuramente scomparsa la mattina di Natale di 11 anni fa. Durante le scorse edizioni è stata definita la grande dei piccoli, ovvero un punto di riferimento per i bambini di cui si prendeva cura attraverso il suo essere generosa e il suo lavoro di fisioterapista. La serata di beneficenza è ormai diventata un incontro annuale per la città di Nocera Inferiore con la rappresentazione teatrale al Diana. Il ricavato è stato devoluto al reparto di Kinn dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Questa serata è dedicata, come dicevo, a Clorinda Guerritore, scomparsa 12 anni fa, prematuramente, e che durante le scorse edizioni è stata definita la grande dei piccoli. Ed è proprio in favore di questi piccoli che anche quest'anno il ricavato andrà per i più piccini dei piccoli, come ci piace definirli. I beneficiari di quest'anno sarà il reparto TIN, terapia intensiva neonatale, dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove transitano tutti i cuccioli venuti al mondo prematuramente o affetti da gravi patologie.